Comprare un appartamento qui a Dubai, pronto tra un anno, ma lo paghiamo in tre, completamente arredato e con una marea di servizi? Scopriamolo insieme! Una living room elegante e spaziosa! Una cucina angolare completa di tutti gli elettrodomestici, proprio come piace a noi italiani! Mi sono proprio innamorato di questo bagno di servizio! E guardate che camera, con un vero king size sempre compreso! Un armadio a muro a quattro ante e un bellissimo bagno padronale! Ed infine il balcone, che per noi italiani non può mancare! Per questo progetto, i prezzi dei bi locali partono da 235.000 euro, con arredamento incluso e tre anni di piano di pagamento! Secondo voi, sono prezzi ragionevoli? Scrivetelo nei commenti!